Appuntamento sabato 7 aprile al Beardland di Sassari con il gruppo italiano Artmoni. La band, composta da Deborah Vilardi, Donata Vilardi, Emanuel Vilardi e Andrea Corda, arriva a Sassari dopo un periodo di formazione ed evoluzione a Bruxelles, in Belgio. Un'esibizione imperdibile, generi come il folk, l'indie, il country e il pop si incontrano e si fondono in un sound inconfondibile. A rendere unico Artmoni è anche l'assenza di un leader, nessun solista o frontman. Il ruolo dei membri del gruppo è infatti versatile, adattandosi all'interpretazione che vogliono dare a un brano. Le loro composizioni incorporano a solo i vocali e voci multiple, a cappella o con tre chitarre, tastiere con chitarre e percussioni, a soli di percussione e molte altre combinazioni. Il concerto inizierà alle 22.